Massimo Ranieri è il padre di Luisa Ranieri? L'attrice ha parlato del suo più grande dolore, ma cosa ha detto? I dettagli Luisa Ranieri è figlia di Massimo Ranieri? La risposta è no, il noto cantante non è suo padre Come sappiamo, infatti, quest'ultimo ha scelto un nome d'arte poiché all'anagrafe si presenta come Giovanni Calone Chi è quindi il papà dell'attrice? Leggi anche, Lolita Lobosco, chi è Filippo Scicchitano, l'attore che fa Danilo Martini? Età, vita privata, fidanzata, moglie, padre, film, Giulia Valentini, fisico, altezza, Instagram Luisa Ranieri è figlia di Massimo Ranieri? La risposta è no, Luisa Ranieri e Massimo Ranieri non sono in alcun modo imparentati L'attrice non è la figlia del noto cantante, quest'ultimo, come sappiamo, ha scelto Massimo Ranieri come nome d'arte poiché in realtà all'anagrafe si presenta come Giovanni Calone Chi è il padre dell'attrice? Ha curato quindi che Luisa Ranieri non sia figlia dell'omonimo Massimo, cosa sappiamo del suo padre biologico? L'attrice ha raccontato di averlo perso all'età di soli 24 anni, i suoi genitori hanno divorziato quando aveva 8 anni Ecco le parole della moglie di Luca Zingeretti, nonostante la morte prematura del padre, comunque, Luisa Ranieri ha avuto modo di instaurare un meraviglioso rapporto con il compagno di sua madre, oggi deceduto anche lui In merito a quest'uomo l'attrice ha detto, la famiglia oggi Luisa Ranieri oggi è sposata con Luca Zingeretti, i due attori hanno creato una meravigliosa famiglia Il nucleo, importantissimo per l'attrice, rappresenta per lei un punto fermo, la morte di suo padre, quindi, oggi è vissuta dall'attrice come un ostacolo superato Nonostante questo, però, viene spesso ed erroneamente associata al cantante Massimo Ranieri Seguici su Instagram cliccando qui Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao